l'analisi del cross che vede contrapposto l'euro dal dollaro australiano bene ho plottato le indicazioni delle onde di eliot in ottica giornaliera in sul grafico a quattro ore appunto da poter verificare bene il movimento a questo punto che cosa ci dice le indicazioni di eliot ci dice che praticamente dopo aver raggiunto questo massimo esattamente che raggiunto il nel giorno del primo dicembre quindi primo dicembre c'è stato un primo movimento orai bassista che è stato segnato come onda 1 poi abbiamo assistito a una correzione fino al 74,1% dell'onda 1 che ha determinato un'onda 2 dall'onda 2 poi c'è stato questo box è il box dove praticamente sarebbe l'onda la candela giornaliera divisa a sei candele vedete queste sono le sei candele a quattro ore che formano la candela giornaliera che ha dato seguito all'inizio dell'onda 3 esattamente l'onda 3 quindi è partita 156 900 950 ed praticamente dopo aver fatto un po di congestione all'interno di questo del box della candela del 7 dicembre adesso praticamente c'è stata una rottura una forte movimentazione ribassista dovuta anche dalla debolezza dell'euro nei confronti invece della forza del dollaro australiano che si mantiene molto tonico proprio nelle prime ore di apertura dei listini europei e quindi abbiamo sfruttato questa forza per poter quindi utilizzare questo movimento affinché appunto ci dia le indicazioni ribassiste dove per queste indicazioni potrebbero raggiungere il test di onda 3 che al momento coincide quasi con il supporto 154 e 16 in pratica sarebbe il 100% dell'onda dell'estensione dell'onda 1 ovviamente questa movimentazione potrebbe estendersi anche oltre il 100% dell'onda 1 se andiamo a fare il calcolo potrebbe anche estendersi oltre il 168 oppure il 261 e 80 in definiva al momento quindi la movimentazione rimane ribassista sulla coppia euro dollaro australiano potrebbe anche essere un po' di più potrebbe anche essere un po' di più Grazie a tutti.